e ciao ragazzi siracusa centro e più centro non si può diciamo allora siamo da gisella un salone storico questo non è il primo salone però adesso entriamo nei dettagli con lei e con tutto il suo staff ok eccoci qua gisella come stai splendidi complimenti grandissima invidia ragazzi grandissima no no sono dei pigmenti è una maschera pigmentata per ogni tanto gioco con questi colori perché è il nostro lavoro e quindi sono la prima che devo quindi un semi permanente quanto dura questo ma dura due settimane sei già stata al mare sono passato io a rovinare mi hai fregato va bene allora il salone bellissimo stiamo guardando in sovraimpressione complimenti grazie grazie è stato un piacere grande averti incontrato ma soprattutto questa perché non lo sapevo che venivi oggi quindi è stata una sorpresa è già buono che ho avvertito ragazzi è stata una bella sorpresa allora specialità della casa poi parliamo con il tecnico che fa finta di non vedere allora noi siamo specializzati nella ricostruzione dei capelli lavoriamo molto con l'arginina è una ricostruzione che veramente un fiore all'occhiello per noi perché quando tu vedi un capello trattato rovinato proprio bisogna tagliare lì e andiamo a ricostruirlo la soddisfazione della cliente diventa la nostra gioia assolutamente non credono ai loro occhi non credono ai loro occhi e quindi diciamo che questo è un trattamento che per il momento sta andando alla grande perché comunque proteggono i capelli dal sole hanno hanno la possibilità di andare a mare o di gestire bene i loro capelli senza problemi questa cosa quindi prolunga anche di più il colore anche da luminosità al colore il capello rimane sano sai cos'è perché molti sottovalutano questa cosa del sole pensano che magari proteggere dal sole no pensano che i capelli non hanno bisogno di protezione perché non sono la pelle hanno bisogno ma proprio proprio in estate hanno bisogno perché il capello va a seccare quindi il capello ha bisogno di essere idratato perché i problemi poi ce li porteremo a settembre se non vengono curati in questo periodo quindi noi miriamo proprio a questa problematica la cura del capello ma la questo trattamento è compatibile con altri servizi o potevo farlo assestamente no 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 assolutamente compatibile si potrebbe anche fare lo stesso giorno ma è una questione solo di tempo per la cliente ma è un trattamento che possono anzi migliora tutti gli altri trattamenti quindi crea la famosa tela perfetta per avere proprio crea un capello sano per avere un risultato alla grande con i colori con le permanenti e con tutto quello che si va a creare sui capelli dopo quindi non lamentatevi che andate a spendere per un trattamento super mega galattico e poi non dura non è che non dura il trattamento ma è perché non avete fatto le cose giuste oltre che non si non bisogna fermarsi soltanto ai prodotti a casa che sono importantissimi ma ci sono anche delle altre cose che solo il vostro parrucchiere può dare perché se vanno in farmacia non la trovano perché noi abbiamo la competenza e quindi è giusto è giusto è giusto ma vedo molti molti vedo parecchie persone che si affidano parrucchieri top come il tuo salone così e poi vanificano tutto no con dei trattamenti che non sono adeguati andando in farmacia a comprare uno shampoo che non è corretto o andando addirittura al supermercato dopo ritornano dalla parrucchiera non è durato il tuo colore e quindi devi stare lì a suggerire ma suggerire devono fare i trattamenti perché se non si fanno non vedono cioè puoi mettere la maschera migliore del mondo ma devi andare a sistemare il fusto il capello e poi tutto il resto verrà da sé quasi quasi da sé ci vogliono delle mani magiche adesso poso le mani magiche tu le hai fantastiche però comunque hai dato fiducia a un ragazzo ai miei collaboratori perché ho dei collaboratori che sono grandi molto grandi e se non avessi loro direi che non potrei fare quello che faccio non potresti andare al mare ogni tanto adesso vediamo subito ci spostiamo con il collaboratore che quando non c'è Giselle vi coccola ti rende felici lui ok ragazzi Antonio neanche sono andato chissà dove perché Giselle è là ciao Antonio come va buongiorno buongiorno a tutti bene grazie tanto ragazzi super competenti ho avuto occasione di non che io sia un tecnico però sono abituato ad andare in show eccetera eccetera e questo ragazzo ne sa davvero a pacchi come diciamo grazie per i complimenti grazie mille allora la tua formazione mi dicevi che tu sei uno che ha iniziato in salone e ci sei stato cinque anni nello stesso salone per poter migliorare le mie conoscenze per risultare a tutti gli effetti un hair stylist e così oggi ho la fortuna di avere il mio mestiere nelle mani e dov'è che eri prima di qua io vengo da Messina ok dunque sono arrivato qui a Siracusa proprio all'inizio del lockdown preciso abbandonai il mio lavoro perché non ti pace la strada facile no prendiamo un momento no 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 sono arrivato io qua a Siracusa e ho portato il lockdown ok ti aveva già scelto o vi siete trovati ci siamo scelti e sposati subito dopo il lockdown ok come è successo tutto tramite un un annuncio recapitato su internet così la contattai e ci siamo innamorati a prima vista siete annusati e piaciuti io ho sentito proprio l'odore del del salone che mi mancava in quei quattro mesi a casa ok però mi hanno fatto bene affinché io potessi iniziare carico carico e la filosofia è quella giusta e portare anche qui quello che era il mio bagaglio di vita e la mia esperienza e amalgamarlo con quello che è l'esperienza trentennale della della signora Gisella la tua specialità ma lei ricostruzione quindi tu la saprai fare benissimo oltre a quel ma io il mio mondo il mondo del parrucchiere mi affascina per la colorazione le schiariture tutto quello che diciamo è sul sul tecnico ok voi che aziende usate in questo momento allora noi andiamo da il dalla colorazione led alla vivisibol che sono due aziende a livelli proprio internazionali con soddisfazioni di copertura luminosità lucentezza riempiono il capello qualora dovessero esserci delle squame aperte o capelli disastrati dunque nel momento in cui noi andiamo a stendere il colore il capello risulta sanissimo poi accompagnato appunto dalle ricostruzioni e dai nostri trattamenti che mirano all'eccellenza completiamo un capello la cliente esce con un capello risanato ha notato la differenza insomma assolutamente questa filosofia pagata dal momento in cui entra facciamo toccare il proprio capello così a fine lavoro testano loro stesse e riconoscono la differenza differenza per fargli scegliere cos'è che va di più in questo momento a siracusa quest'anno 2019 2020 cos'è cambiato come se sei cambiato qualcosa nella direzione dei colori ma sembra che il lockdown abbia un attimino fatto azzardare più le clienti dunque con queste colorazioni dirette con questi bailage con questi flower tantissimo dunque la gente si è data un attimino più anche per anche persone che di solito non facevano questa cosa qua si sono fatte ammaliare poi noi ci distinguiamo perché personalizziamo per ogni cliente una colorazione che vuol dire personalizzare per ogni cliente che scegliamo insieme componiamo insieme il colore anche se nel tubo è quello da un colore il 7 è un 7 noi andiamo a personalizzarlo per te aspetta che mi sposto di quanto tanto no no vengo vengo perché lei visto che eri punta del vivo no no e ha detto benissimo Antonio si noi per ogni cliente va personalizzata perché ogni cliente il colore deve rispecchiare la propria personalità quindi sarà sempre un il nostro colore non è solamente il colore ma la tecnica del colore sarà diversa perché magari lavoreremo secondo il viso giustamente ma anche i vestiti che magari lei la perché magari ci sono più scumeggianti gli altri andremo per esempio a ombreggiare lì dove ci sarà bisogno di ombreggiare per evidenziare diciamo il look della persona le caratteristiche e migliorarla sì quindi non c'è una cliente che ha il colore uguale a un'altra il tubo il tubo è lo stesso è anche questione di tecnica brava e di lavoro più chiari più scuri cioè voglio dire è il nostro lavoro noi siamo degli artisti quindi cerchiamo di fare questo professionisti della bellezza diciamo quindi il tubo è lo stesso ma il risultato è personalizzato deve essere per forza per forza anche perché poi c'è anche tutta un'altra serie di altri piccoli prodotti piccole magie che voi mettete sempre dentro che perché guarda com'è anche se non so in questo piano alcuni dei vostri colleghi hanno dato il colore a casa anche il professionale per aiutare le persone a casa però il risultato non era lo stesso e hanno rivalutato il vostro lavoro e poi diciamo che questi pigmenti puri aiutano tantissimo a personalizzare i colori perché adesso gestiamo noi io faccio una metafora se compro un cannolo siciliano quello mangio qua una granita qua ha un sapore se me lo porto a milano non è la stessa cosa non so perché c'è qualcosa che non ci dicono ed è lo stesso va bene partiamo dalla tua marketing manager per questo è un salone con una persona dedicata all'accoglienza ai social e quant'altro adesso arrivo da lei ok ragazzi eccoci qua bellissima ragazza doc siciliana bar l'unica cosa che non è siciliana forse il nome perché barbara è un po un nome che dalle nostre parti di milano così andava molto come mai barbara la nonna no 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 mio padre lavora in marina e quindi di conseguenza è la protettrice dei marinari vedi che c'è qualcosa bellissimo nome complimenti grazie allora marketing manager a siracusa come va cosa fai esattamente cosa ti occupo mi occupo dell'accoglienza del cliente della consulenza della gestione cassa del diciamo post pagamento diciamo per poterli appunto fare ritornare esatto se è la persona che si occupa di quello che succede dopo che sono uscite e prima si sottovaluta ma invece la parte più importante durante c'è antonio e gisella prima e dopo ci sei tu questa è una cosa molto importante ragazzi che voi dovete prendere perché i clienti si coccano prima e dopo durante siete bravissimi però molti saloni prima e dopo hanno qualche aspetto per farli tornare per farli coccolare per offrire di sempre qualcosa in più degli altri una differenza quello che serve fondamentalmente ai saloni ok sempre lavorato con appuntamento oppure soltanto perché ve l'hanno imposto con lockdown no allora prima lavoravamo normale senza appuntamento anche se preferivamo sempre prendere appuntamento alla cliente prima che andasse via quindi in ogni caso bloccavi il cliente prima di andare doppia mandata come si vuol dire adesso a maggior ragione visto il dopo del lockdown siamo tra virgolette obbligati ci sono occasioni in cui possiamo riusciamo a inserire qualche cliente fuggi fuggi che ha bisogno di una piega se possiamo inserirla perché dobbiamo rispettare magari qualcuno che si è dimenticato che il figlio si sposava però è anche vero che comunque dobbiamo sempre rispettare le regole noi non abbiamo mai smesso fin dall'inizio molti hanno abbassato la guardia ma noi no siamo come si vuol dire all'antica antica che c'è ragazzi qua di solito fanno la tac lei ha fatto tac radiografia e ha chiesto un campione del dna per entrare qua fatto più fatica entrare qui che scendere dal traghetto ci teniamo veramente ci teniamo ecco pensi di adottare la politica di sempre appuntamento anche se poi perché prima o poi finisce questa cosa del covid ragazzi prima o poi finisce quindi lo adotterai oppure devo dire sì ci troviamo molto bene perché gestiamo il giusto tempo alle clienti ci dedichiamo meglio non è poco confusionario e poi le clienti vengono coccolate molto molto di più impari a conoscerle molto di più ad ascoltarle molto di più e a realizzare i loro desideri in questo modo molto più facilmente rendete felici ecco è aumentato qualcosa da un punto di vista dei servizi c'è la spesa è diminuita è aumentata proprio del servizio tecnico in generale al di là del listino che voi avete scusato le clienti chiedono qualcosa in più in questo momento oppure è rimasto più o meno uguale allora al rientro molti hanno dovuto fare diciamo il total look perché ovviamente i disastri ne abbiamo se avete provato a casa è andata male già lo sapevate che andava male però è giusto che io devo sbattere la testa contro il muro sì 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 e quindi di conseguenza molte persone hanno richiesto appunto dei servizi che magari solitamente chiedevano col tempo invece in quel modo hanno chiesto appunto di fare un total look altri hanno preferito fare degli abbonamenti nel nostro salone visto e considerando che comunque per via degli appuntamenti selezionati in un certo quantità di persone non c'era spazio di poterli magari inserire invece con gli abbonamenti loro si assicuravano il posto ogni settimana quindi hanno trovato molto molto comodità quindi ha funzionato sì 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 tantissimo ok fatturato 2019 2020 come siamo messi parlando di questi mesi ovvio che quando si è stata chiusa si è stata chiusa però no parliamo di questo luglio agosto c'è più o meno così come sta andando? allora no stiamo lavorando abbastanza bene senza entrare nei dettagli no 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 stiamo lavorando abbastanza bene abbiamo avuto sì un aumento del fatturato tranquillamente ma perché comunque abbiamo fatto dei vari avete adottato una strategia? durante anche il lockdown abbiamo studiato molto quindi non abbiamo dormito avete messo in pratica anche qualche... noi vi abbiamo stressato un po' sì sì abbiamo studiato tanto e quindi abbiamo attuato tante strategie che hanno funzionato sì 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 tranquillamente veramente ok siamo tornati da Antonio abbiamo parlato di questa arginina no? che fondamentalmente ricostruisce il capello lo stelo insomma anche va bene anche per la caduta dei capelli assolutamente nasce appunto per questo per contrastare la caduta del capello dunque le sedute servono a bloccare la caduta e a stimolare la ricrescita e far sì che tutte le cellule dormienti possano risvegliarsi e così dar vita ai nuovi capelli perché ovviamente quando c'è una caduta non c'è stimolo dunque l'arginina fa sì che vada a stimolare la ricrescita del nuovo capello ma appunto va a lavorare sia dalla cute a tutto lo stelo dunque diventa da un da una soluzione di anticaduta ad una ricostruzione dello stelo ecco io vedo spesso si associa caduta dei capelli guardate qua a fondamentalmente l'uomo ma invece parecchie donne ultimamente hanno questo problema sulle donne salita magari loro viene mascherato perché il capello è lungo non lo so però c'è parecchio questa cosa qua di questi tantissimi capelli in lavandina soprattutto in certi periodi dell'anno è consigliabile anche per le donne questo tipo di trattamento assolutamente assolutamente sì anche perché dalle prime applicazioni nei punti in cui comunque è più vuoto la donna proprio vede anche già il volume dunque già ammortizzato già subito dalla prima c'è anche una cosa cosmetica dalla prima applicazione sì perché si riempie c'è questo volume che già va ad ammortizzare dunque già la cliente anche a livello psittico si rilassa tranquilla sì anche questa cosa che riequilibrare una cosa psicologica se una donna guardarsi allo specchio e trovarsi con un po' di calvizia magari noi uomini già ci rasiamo e siamo abituati ci adattiamo ma la donna no la donna è bella così un'immagine e una cura perfetta un po' come il colore non siamo abituati a vederla è come la cornice di un quadro se una donna non è sistemata con i capelli è come se un quadro non avesse una bella cornice ecco questo tipo di trattamento è anche indicato su ragazze giovani perché più di una ragazza giovane ha lo problema non fa differenza d'età assolutamente non c'è nessuna controindicazione dai 15 anni ai 110 a chi ci arriva non c'è limiti di problematica già testato però quanto dura il ciclo della terapia? di 7 sedute però dopo che finiscono le 7 sedute la cliente può un attimino rilassarsi farne magari poi in salone qui qualcuna e poi ricominciare il ciclo perché sospenderlo del tutto non è consigliabile certo periodo? c'è un periodo che è estate oppure devo aspettare l'inverno oppure non lo so cosa consiglieresti? due cicli l'anno perché comunque sia si fa in autunno e poi primavera perché sono le stagioni dove comunque sia i metabolismo gli organismi tutto il nostro corpo cambia dunque se ci sono degli stress o delle diete dei valori anche alterati quello influisce tanto anche sul capello come la pelle tutto quello che vogliamo e questi due mesi questi due periodi questi due periodi vanno benissimo mi tocca tornare quest'autunno ragazzi perfetto assolutamente ti vediamo noi ti aspettiamo ti aspettiamo ok ragazzi siamo in chiusura il salone è fantastico avete visto anche tutte le immagini eccetera quindi trattamento non è anche anticaduto un trattamento per avere una tela perfetta per fare tutta una serie di colorazioni di avere un capello sano è fantastico a base di arginina con prodotti esclusivi li trovate in questo salone e cos'altro dire? vi aspettiamo vi aspettiamo ok ragazzi siamo in chiusura il salone è fantastico avete visto anche tutte le immagini eccetera quindi trattamento non è anche anticaduto è un trattamento per avere una tela perfetta per fare tutta una serie di colorazioni di avere un capello sano è fantastico a base di arginina con prodotti esclusivi li trovate in questo salone quindi che altro dire a parte delle granite fantastiche numero uno in assoluto ecco forse in costiera maltitana sui limoni ci si potrebbe dire qualcosa il salone è assolutamente da visitare e per avere un trattamento che fa esattamente al caso vostro intanto qua salutiamo Giuseppe Barbara ciao a tutti speriamo di chissà di vederci io ci provo io ci provo ti aspettiamo il prossimo anno per l'arginina per l'arginina certo vado di arginina un saluto a tutti e vi ricordo che i buoni trattamenti creano la dipendenza ciao a tutti Grazie a tutti